Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo composto da due brevi racconti, apparentemente semplici, ma che offrono una riflessione profonda sul senso dell'esistenza umana, mettendo in luce grandi temi come la famiglia, il lavoro, la malattia e la morte. Inoltre, l'autore riesce a descrivere il contesto del Giappone con fascino e delicatezza, in bilico tra modernità e tradizione, offrendo così una prospettiva interessante sulla cultura e sulla società giapponese. La trama del libro Noi, Loro, gli altri di Katsufu Mishiraishi, edito da Atmosfere Libri, è la seguente. Pubblicato per la prima volta nel 2009 in Giappone, si compone di due brevi romanzi, il primo, che dà il titolo all'opera, è la storia di un uomo, Akio, incapace di relazionarsi con la propria famiglia e che perciò cerca di trovare un modo per riscattarsi dalla società a cui non sente di appartenere. Nel secondo, a una persona insostituibile, è una protagonista femminile, Miyaru, a dover fare i conti con le grandi scelte della vita. Due storie all'apparenza semplici che, in realtà, ci fanno riflettere sul senso dell'esistenza e ci pongono di fronte a grandi temi, come la famiglia, il lavoro, la malattia e la morte. Con uno stile essenziale e una scrittura dinamica, Shiraishi Katsufumi ci accompagna alla scoperta di un mondo fatto di persone e di vicende comuni e, soprattutto, di sentimenti universali. La cornice di queste storie è il Giappone tra modernità e tradizione, che Shiraishi descrive con fascino e delicatezza. Grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.